Mino-san, konnichiwa, ciao a tutti da Tokyo Oggi ci prendiamo una pausa dalle LOL e dalle OMG e andiamo ad aprire qualcosa di un po' diverso Allora, l'altra volta quando ho fatto il toy hunting a Paisarast ho preso due door balls, oggi li andiamo ad aprire, queste due blind bag e poi ho qui la mia prima nanana surprise della serie 3 Questa al fiocchetto dovrebbe essere, non mi ricordo, quella tipo stile parigino, credo Sono ancora alla ricerca di due, della prima serie e della seconda serie che mi piacciono tantissimo cioè quella del gatto, credo che sia, del secondo, quella con le trecce viola per intenderci e poi l'altra del primo, quella tipo punk, spero di riuscire a trovare a prezzi dei trendy Allora, come sapete, le nanana surprise vengono con delle sorprese appunto è un pacco che esplode e lancia in aria confetti e coriandoli sempre realizzato da MGA Allora, prima di tutto, prima di aprire lei, volevo vedere queste due bustine dei door balls non li colleziono, però erano in super sconto li trovo molto carini, vediamo un po' che cosa esce Allora, vediamo prima il line up quindi ci sono diversi, tra cui Frozen, Belle, vediamo chi vorrei Ah, io vorrei la regina di cuori Pinocchio pure carinissimo e anche il maialino di Moana, mi piace tanto ma anche Elsa è stupenda anche Anna, vabbè, tutti Ok, apriamo e vediamo un po', va Checklist Chi è uscito? Chi sei tu? Oh mio Dio, dimostra il Monster Co, credo che sia e non c'è qui però Qui non c'è Allora, aspettate che devo controllare Ma è carinissimo, pensavo fossero più morbidi Aspettate che, non so chi sia Ah, in realtà ce ne sono 3000 Quello non è l'intero line up Ok, allora vediamo un po' Oddio Stitch, bello Avevo visto, io volevo Capitanuncino, mi devo andare a prendere la casetta Poi c'era Moana, avevo visto e Stitch volevo Vediamo un po' E infatti Monster Inc e ho trovato lui Georgie Sanderson Georgie Sanderson Carino Eccolo qui Il numero 62 Bello, mi piace Sono carinissimi Vediamo, vediamo Se faremo pure questi Non so che serie sono arrivate Arrivati, non ne ho Che palide di Chi è, chi è, chi è? Paperina È Paperina Guardate che caruccia Che bella Quindi allora abbiamo trovato Quindi abbiamo i personaggi classici Disney Il line up è enorme Praticamente E poi ci sono divisi In normale Raro Tipo Sbellucicoso Metallico E Morbido Ah, quindi esistono quelli morbidi Quindi Paperina È una normale E quest'altro pure Vediamo un po' Cos'era Anche lui è normale E vabbè E vabbè Ma sono davvero carini Ragazzi Belli Mi piacciono Ok Da solito Stanno continuando i saldi I sconti Siccome conto di tornarci Venerdì E magari ne prendo Qualcun altro Perché sono troppo Scusate Non ce l'ha Niente Sono proprio carini Ok E li appoggio qui Vediamo di Aprire La nostra Nanana Surprise Allora Vediamo di non fare Porcherie Qui dice Push Open Non pusciamo Ok È aperto Io ho paura di Tagliarmi con la plastica Se questa plastica Entra nella carne È un po' difficile Da dire Alle bambine Dovete farlo Al bambino Dovete farlo Voi Ok Sono riuscita A sficcare Il bustone E no Però qui dentro Che cosa faccio Che cosa faccio Boom Ma qui abbiamo La cannuccia Mamma mia È staccata Col vostri Ok Volta La cannuccia Che soffiarsi dentro No Allora Di Non è di plastica Meno male E di carta Carina Bella Ok Allora Quindi Inserire la cannuccia Soffiare Togliere il cosino Di sopra E Premere Per fare L'esplosione Allora Qui Si inserisce Aspettate che Abbasso un po' Se no Non si vede Niente Brava a me Ok Apriamo un po' Vediamo Come si apre Questo coso Scusate La mia prima E non ho idea Di come si fa Così Così dovrebbe bastare Credo Ne vado Ok Dovrebbe bastare Penso Perché se ne metto troppa Poi esplori da sola E roviniamola Soffri Ah no Avevo messo troppo Oh mio dio Oh mio dio Pulire sarà Un delirio E abbiamo tutti Questi coriandoli Qui Sembra carnevale Però che carini Allora ci sono Praticamente Guardate Cuoricini Gattini Coniglietti E vabbè E qua È un delirio Di coriandoli Ok Apriamo Aprici Sesamo Non si apre Fabrici Vedete a me Ok Sono molto professional E Chissene Spirizziamoci No Ok Quindi la bambola Arriva Wow Le blind bag sono qui In questo bellissimo Cennò Ma cos'è Ma è super Mega Aspettate Che mi faccio Un po' più indietro È super mega Morbido Ma è bellissimo Questo ha un Cosino Portachiavi Quindi può essere Appeso alle borse Agli zanei Bellissimo Vediamo un attimo La track list Però Scusate Ok Check list Paperina Paperina È morta Praticamente Ok 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 Allora Io quindi Ho Lei Fifi Le fluff Quindi in realtà Non è un agnello Ma è un barboncino Ma è bellissimo A cui abbiamo poi Annabelle Mouche Questa è carinissima Secondo me Che è tipo la mucca Il maschietto Jeremy Hopps Dottie de Mille Che sembra Malefica No che malefica Dai Della carica De 101 Crudelia de Mont Ce l'ho fatta Lei che è tutta leopardata C'è chi è La nuova Letta Lamborghini General Jaguar E poi abbiamo Sasha Scratch Che si trova Anche in confezione Allora Apriamo prima Le surprise Direi Io adoro M.G. Che fa tutte queste Belle Con le sorprese Basta Ok Apriamo un po' Ok Qui abbiamo Le scarpe Scarpone Di Come si chiama Fifi le fluff Fifi le fluff Fifi le fluff Mi piace dire Fifi le fluff Ok Sono bellissime Di le scarpe Di Fifi 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 Scusate Ho visto Il zurlo Che dice Da me Avete il zurlo Ok Via questo Bish Che c'è dentro L'outfit Dovebbe esserci E infatti Wow 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 Ho trovato la sua Donna Di raso Ah Mi è caduta la sciarpina Adesso la recuperiamo Donna di raso Stupenda Con un Appunto Barboncino Si apre e si chiude Con il velcro La qualità È decisamente Buona Devo dire È la mia prima Nanananan Surprise Fatemi gli auguri Complimenti Non lo so E potete Il suo fularino Ho trovato Questo Che va Al collo Della bambola Ah Col velcro Pensavo già Di distruggerlo E di aprirlo Invece no È col velcro Tip Fularino E poi abbiamo La sua Magliettina Stile Condoliere O anche stile Insomma Parigino Perché lei Mi ricorda molto Pari Bello 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 Ok Leviamo un poco Di schifezze Lasciamo gli outfit Le cosine Qui E apriamo Il barboncino Che non è un agnello Abbiamo detto No è bellissima Questa confezione Mi piace tantissimo Vedete Bello Qua ci metto Tipo I trucchi Una bella pochette Per i trucchi Carinissima Questa Trucchi Vabbè Che ormai Con le mascherine Non ne trucco più Però No vabbè Mi piace assai Ok Super mega scotch Dappertutto Ragazzi Se lo togliamo Ah è uscita la gamba Oddio è un poco creepy Un poco Angosciante sta cosa Però ce la possiamo fare Eccola qui Nasce come da una cozza No ma che cos'è Ma è carinissima Vedete che biancheria Uh la la Che ha I capelli sono super Mega morbidi Sono lunghi 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 Fin sotto i piedi Castano scuro Sono stupendi Questo coso Io lo odio Lo devo tagliare Perché ogni volta Che lo vedevo Su youtube Dicevo Ma che cos'è Va levato Questo talloncino Perché è troppo grande Sembrano i talloncini Di Zara Che li fanno enormi Eh Questo è il suo tag All'interno In realtà Dovrebbe esserci qualcosa Tipo la sua storia Una cosa del genere Avevo sentito Allora È in realtà Una bambola di pezza Ragazzi È stupenda Praticamente è possibile Muoverle Le braccia Le gambe Dovrebbero Ah Quindi c'è la Torsione Delle gambe Sì È un po' dura Un po' sì Tipo come se dentro Ci fosse la sabbia Diciamo Invece perché Di pezza Non è plastica Non puzza di plastica Insomma Ah La testa è un poco Morbidosa Il cappello Non viene via Perché è attaccato I capelli Però non mi dispiace E diamo un'occhiata Al suo Bellissimo viso Allora Ha gli occhi Tipo blu Verdi E un po' viola Super ciglione Bocca rossa Poi ha questa Gettier Stupenda Troppo carina Tutta rosa Che alcuni potrebbero trovare Inappropriato Per un giocattolo Ma secondo me È un amore Poi ha Una specie di Braccialetto Con le perline E il fiocco E le calze Ma è carinissima Io vorrei aprire questo Ah vedete poi qui Ha praticamente I fiocchetti Come il suo Peluscetto Cioè Ma quanto sei carina Ma ragazzi I miei capelli Sono stupendi Sono Morbidi 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 Bella Allora Aspettate che volevo vedere Cosa c'è qui dentro Perché da quello che so Dovrebbe venire su Tipo Una sua storia O raccontarci qualcosa In più Della bambola Allora Abbassiamo un po' Tutto Vediamo un po' Se riesco ad aprire Senza fare danni E infatti dice Fifi le fluff Lei è nata il 10 dicembre Cute But make it fashion Carina Ma Faccio moda Faccio tendenza Quindi questo c'è scritto dentro L'avete mai aperto? Il talloncino Non lo so Io l'ho voluto aprire Perché così avevo visto Su youtube Adesso la vestiamo Mentre Ciocchiamo un po' Tra di noi Mi sono arrivate tantissime cose Dopo aver aperto Candylicious Sono entrata nel tunnel Delle Bambole Della OMG Della OMG Oh my god OMG Praticamente Allora Che mi è arrivato? Wow Mi è arrivato Allora E Dazzle Della serie Lights Poi Mi è arrivata Cioè Ho comprato In realtà Non mi è arrivata Ho comprato In negozio Della Delle Winter Disco 24K Degree E poi Oggi mi dovrebbe arrivare Ce la posso fare Busy BB Che quella è la serie Appunto La terza serie Quella che vorrei finire Tutta In realtà E conto di comprare Online The Boss E tutte le altre Insomma di quella serie Perché mi piacciono Da morire E quindi presto Ci sarà un unboxing Però dell'intera serie Farò Non farò una bambola Ma quanto è carina No Sembra Tipo Sì No ragazzi Questa Questa viene da Da Paris Lei Lei viene da Paris Vedete quanto è carina Oui 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 Merci merci Non so niente in francese Però Anche se ci sono stata Più di una volta In vacanza Ma più che dire Merci Je m'appelle E bonjour Bonne nuit Perché più so dire Je t'aime Basta Ah Vedete che carina No va bene Ma è troppo bella Lei Aspettate che le mettiamo Pre le scarpine Dice di essere sinistra No Stavolta Non dice di essere sinistra Andiamo a Senso Sbagliato Mi so Oh no C'ho preso E' bellissima Mi piace Da morire Aspettate che Alzo un po' La facciamo stare in piedi Guardatela Ta 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 Voi quale avete di questa serie? Fatemelo sapere E Secondo me questa era la più carina Ah aspettate Ma abbiamo dimenticato il suo furarino Senza furarino Dove va? Oui 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 Aspettate Oui 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 È un po' difficile da mettere Non mi sta Questa in giù Le andrà il sangue la testa Ma vabbè I capelli vanno dappertutto Perché sono troppo lunghi Ah secondo me Queste bamboline Le nana surprise Vabbè A parte adulti malati come me Che adorano collezionare giocattoli Secondo me sono perfetti Anche per bambine Più piccine Appunto perché Sono facili da maneggiare Non sono di plastica Quindi diciamo Possono essere un po' Ecco perché Scusate La gonna Scusate un attimo Ho fatto un delirio La gonna ha questo pezzo di plastica Che la tiene Per tenerla bloccata Quindi io devo far passare le gambine Di Fifi Le Fluff In questo pezzo di plastica Eccolo qua Così tiene tutto bloccato E hai tutte le tue cosine a posto Fifi E perché Devi stare a posto Scusate Ok Vedete com'è Com'è Fashion glamour Bellissima Quindi dicevo Perfette Secondo me Per le bambine Non troppo grandi Magari Quindi anche tre anni Secondo me È un giocattolo fantastico Non so se possono essere lavate Dopo Però Sono carinissime Bella Che Aspettate che Sto cercando di trovare Ok Sono stupende Sono molto felice Della mia prima Neneh Surprise Spero di riuscire a scovare Anche le altre Che volevo I capelli Sono una droga Da Tenere in mano E Per oggi è tutto Mi saluto da Tokyo Io Conto di Unboxare Poi La Winter disco Direi Sì Perché è bella E poi mi è arrivato Il kit Della Mattel Creatable World Di quelle bambole Che possono diventare Maschio o femmina Potete farci un po' Quello che volete Una bella botta Di allegria E creatività Ne parlerò Un po' più a fondo Perché è un discorso Un po' più complesso Da affrontare E Per oggi vi saluto Anche Fifi Le Fluff Vi saluta Au revoir Mattel Un po' più a fondo Un po' più a fondo Grazie a tutti.